Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, intro un po' così scialla scialla Oggi faremo un video un po' diverso, come vedete un po' di vestiti qua appesi Vi faccio vedere come con solo 16 pezzi si possono creare un sacco di outfit Siamo convinti che abbiamo bisogno di un guardaroba super gigante Ma io sono più della filosofia dell'avere poche cose che mi stanno bene, che sono basiche Che le posso abbinare un po' con tutte Quindi oggi vi faccio vedere come io con 16 pezzi tra scarpe, vestiti, giacche Riesco a creare un bel po' di outfit e spero di ispirarvi a voi per il vostro guardaroba capsule Insomma autunnale, ancora estivo, anche perché io non voglio sentire parlar di autunno Perché siamo ancora in estate, questo qui in realtà può essere utilizzato E molte di queste proposte possono assolutamente essere utilizzate anche in autunno Soprattutto l'autunno italiano, che sappiamo che è sicuramente migliore dell'autunno canadese Comunque senza perdersi in chiacchiere io direi Let's go! Soprattutto l'autunno Soprattutto l'autunno Soprattutto l'autunno Soprattutto l'autunno Soprattutto l'autunno Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.